Buongiorno! Eh, Vittorio? Bella abbronzatura! Un po' in ritardo? La lezione di aerobica, scusa. Messaggi? Ricky Harrison deve annullare. Non ha precisato che cosa né perché. Ogni tanto tiro di box con Ricky all'Harvard Club. Nessun altro? Spencer vuole vederti per un drink al Frutti Pier 17. Quando? Dopo le 6. Negativo. Voglio che annulli. E che cosa gli dico? Digli solo di no. Solo di no? Ok, Gin. Mi serve una prenotazione per tre al Camels, alle 12 e 30. Se non c'è posto, prova al Crayons. Sì, signore. Aspetta. Mi serve una prenotazione per due all'Arcadia, per giovedì alle 8. Una cena romantica? No. Stupida. Lascia stare, ci penso io. No, faccio io. No, no. Sii un angelo, portami dell'acqua minerale, ok? Hai un bell'aspetto oggi. Non vestirti più in quel modo. Scusa, non ti ho sentito. Ho detto, non ti vestire più in quel modo. Mettiti un tagliere, una gonna e camicetta, non so. Così non ti piace, Arguisco. Andiamo. Sei più carina di così. Grazie, Patrick. Io non ci sono. E i tacchi alti? Mi piacciono i tacchi alti. Possedeva uno scheletro molto simile a quello dei moderni esseri umani. Ed è databile tra 1,8 e 1,6.